Buongiorno, qui con il nostro amico Giacomo, da Valpolicella, dove, dopo aver provato gli azeiti, scoliamo l'olio in casa, un olio spettacolare che Giacomo va a spiegare un po'. Ciao a tutti e benvenuti qui in Valpolicella. Quest'anno abbiamo la fortuna di poter mandare alla Boccati un po' del nostro olio. Produciamo circa 250 litri di olio all'anno e circa 100 sono destinati alla selezione Boccati che troverete nei suoi locali. Di solito noi raccogliamo le olive nella prima parte di novembre in modo da fare un olio che sia di media struttura e utile, buono da usare su tanti piatti senza nascondere il gusto del cibo. Spero che vi piaccia!